Un giorno di festa per i comitati di quartiere dell'entroterra del 13esimo municipio. Stamani infatti l'amministrazione ha tagliato il nastro del parcheggio di via di Dragone, pronto da due anni ma bloccato per problemi di reperibilità della ditta privata che lo aveva realizzato. Il municipio è intervenuto risolvendo il problema, consegnando finalmente ai cittadini un'area fondamentale per smaltire il traffico davanti alla scuola Marco Ulpio Traiano. A far muovere l'amministrazione è il grande lavoro svolto dai comitati che hanno manifestato e raccolto le firme, come ha spiegato Alessandro Ieva, portavoce del comitato di quartiere Bagnoletto. Oggi siamo soddisfatti, la mia soddisfazione è quella dei comitati di quartiere. Ovviamente ringrazio l'assessore Americo Olive che ci è venuto incontro avendo questo parcheggio. Erano due anni che stavamo in queste condizioni, i disservizi, l'indisponibilità del parcheggio ha creato molti disagi alle mamme, quindi siamo molto contenti. Da oggi Dragona sarà un quartiere più vivibile perché questo creava una serie di problemi per il parcheggio della mattina per la scuola e praticamente quando c'è sinergia tra le istituzioni e i comitati e i cittadini i risultati si vedono. Le difficoltà sono state molte, tant'è vero che la consegna questa mattina è stata fatta con riserva. Non abbiamo preso in carico l'impianto dell'illuminazione perché la CEA comunque ci ha comunicato che l'illuminazione non è a norma, molto probabilmente dovranno fare delle modifiche ma noi abbiamo accettato comunque di prenderlo in carico perché avevamo necessità di aprirlo. L'assessore Ghera è molto felice di aver realizzato, grazie alla tenacia dell'assessore Olive e al lavoro che si svolge quotidianamente, la sinergia con i cittadini è fondamentale e quindi siamo ben felici che questo parcheggio sia fruibile dai cittadini da oggi in poi. L'impegno da parte dell'amministrazione bisogna riconoscerla, ma soprattutto va riconosciuto anche l'impegno dei cittadini che hanno sostenuto questa battaglia perché effettivamente se non c'era un movimento di cittadini che prendeva questa iniziativa per l'apertura qui l'amministrazione non ha fatto un bel niente. Grazie a tutti.